buongiorno 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 giorgia oggi i nostri chef ci preparano i famosi gnocchi anche se non è giovedì però se mangiano lo stesso giusto oggi questi gnocchi verranno preparati con crema di zucchine basilico fatta in casa poi zucchine spadellate e dei pistacchi sbriciolati noi abbiamo preso quelli con la buccia e li abbiamo sbucciati così almeno sono sono meglio cioè si sente di più il sapore ora iniziano a tagliare i nostri chef i gnocchi prego signorina ecco prendi l'altro cordoncino fai piano piano tanto che lei fa i gnocchi io passo all'altro round che spadello i gnocchi vai giorgina senta le manine bravissima allora tanto io mi prendo un po di gnocchi così intanto lo chef prepara le padelle la caffettiera è per ornamento e non ci fate caso molto bene molto bene allora facciamo due porzioncine fa i più piccolini papà adesso io inizio a spadellare no 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 eccoci qua intanto la nostra chef continua a tagliare i gnocchi e lui è all'opera spadellamento in corso mettiamo un po di sale affumicato una cottura veloce veloce che sono piccole perché sono addatini e poi le zucchine se non le cuociamo del tutto sono ancora più gustose tutte le vitamine sono nella zucchina semigruda troppo cotta non va bene bravissima chefina adesso papà mettili tutti qui in fila bene così faccio io sì sì fai tu intanto butto i gnocchi qui eccoci qua Giorgia sei forte o brava Giorgia guardate che precisione la nostra chef bravissima fantastica ecco di nuovo qui ecco di nuovo qui Giorgia Giorgia l'abbiamo messi sotto in che senso li abbiamo messi sotto dentro l'acqua ah mi scusi non avevo inteso bene signorina va bene così signorina certo va benissimo bene bene adesso gli gnocchi aspettiamo che vengono su sopra si dice o se no si può vivere pure in coppa oppure galla ma papà ma papà si è tagliato perci della chignocchi sì sì taglia taglia ecco mi scusi mettici più farina ecco manuela passa di qua sì oh ecco le gnocchetti le canina della Giorgia ecco le mie con una bella spavillata al volo gnamme gnamme sì non sono tutti uniformi perché tanto sono per la casa sono dei bambini qua eccoli ora dobbiamo aggiungere un po' di olio e poi adesso il basilico una bella cremina eccola qua guarda un po' guarda che bello un bel piatto verde un bel piatto verde mmm buono un po' stringere la salsa Giorgia ci fa ancora gli gnocchi guardate che precisione brava brava metti un po' più di farina ok basta Giorgia può bastare adesso mettiamo parmigiano a mantecare a pioggia buonissimi devo provare devo toccare mi fare la pasta adesso imbiattiamo questo è un po' più che è per imbiattare ecco imbiattiamo velo posto velocemente ecco i gnocchi gnocchi zucchine pezzo di zucchine basilico insieme eccolo basta questo qui per la bambina e adesso manca la la granella di pistacchi giusto? mettiamo questo si granella di pistacchio e una voglia di basilico buone ecco qua voilà buon appetito a tutti ciao ciao Giorgia ciao Marco ciao ciao